E contro questa roba che vuole governare attraverso la crisi le nostre esistenze, che vuole mercificarle, che vuole explodurre sicuramente il fruttamento, controllo delle popolazioni, i profitti, speculazione. Contra tutto questo noi ora abbiamo occupato la sede dell'Eurosystem, della Banca d'Italia. Noi studenti precari, noi che tutti i giorni paghiamo il costo di questa crisi, oggi abbiamo occupato questo luogo per ribadire che in questa settimana di mobilizzazioni che ci conducono verso lo sciopero del 19 ottobre, del 18 e 19 ottobre, oggi abbiamo occupato questa terra anche per rilasciare, oltre questa data, perché non ci si può fermare solo al 19, ma si deve guardare oltre una prospettiva europea che parli con i movimenti sociali che in tutta Europa si stanno opponendo alle misure dell'alternità. Riconquistiamo spazi, riconquistiamo reddito, facciamolo tutti i giorni, facciamolo portando avanti il battaglio e le lotte che quotidianamente animano i movimenti in tutta Europa. Ci vediamo in piazza il 19, ci vediamo da Coria 99 dal 1 al 3 novembre.